Elena Santarelli nasce a Latina il 18 agosto 1981 e alta un metro e 80 centimetri modella e personaggio tv viene conosciuta dal grande pubblico quando diventa balletta dell'eredità ecco cinque cose che forse non sai su Elena Santarelli le sue misure statuarie rispondono perfettamente alle proporzioni ideali 90 60 90 il padre era un operaio prima delle nozze con Bernardo Corradi ha festeggiato il suo addio annubilato a Londra ha ricoperto per due anni il ruolo di Caterina Farini in camera caffè dopo aver frequentato il liceo classico di Latina si è diplomata in un istituto privato